Ma il paparazzo cosa voleva da te? Evidentemente per Roma le voci stavano montando sempre più, girando sempre più, che Francesco avesse in sostanza una doppia vita. Roma di fronte a certe cose è un po' umertosa, copre, copre un po' delle maraghelle. I romani sono pettegoli, sono molto pettegoli. Tutti sanno che a Totti piacevano sia mangiare, ma ritossico una panna e donne, quindi... Lo copriva? Secondo me sì. Eh, boh. Oh, oh, guarda avanti però, mi fa. Bisogna pensare che Roma è una città che parla male di tutti. Senti dei gossip, micidiali, anche di una certa violenza. Tutto si mescola e tutto si attutisce, perché tutti dicono tutto e alla fine nessuno dice niente. La Roma sapeva, ma io questo l'ho scoperto dopo che Roma sapeva. A me nessuno mi ha mai riferito qualcosa. Io mi metto anche nei panni delle persone. Chi si mette in mezzo ad una famiglia così grande e simbolica? Grazie a tutti. Grazie a tutti